Con le nuove regole del Super Green Pass e l'obbligo di vaccinazione per le forze di polizia c'è il rischio di numerose assenze fra il personale di sicurezza, ovvero fra chi al momento non ha aderito alla vaccinazione e non è reduce della malattia e a oggi per lavorare esibisce il tampone. La preoccupazione traspare dalle parole del segretario provinciale del sindacato autonomo di polizia Lorenzo Tamaro. L'obbligo di vaccino per i poliziotti rientrerà in vigore il 15 dicembre, ma i rischi di trovarsi con personale in meno è piuttosto elevato. Polizia di Stato, il 30% degli agenti non è vaccinato. È un grosso maccino, diciamo che a Trieste ha avuto una campagna vaccinale da parte dei colleghi inferiore rispetto a quella che è il dato nazionale, perché il dato nazionale parla di circa l'80%. Noi non sappiamo ora quante di queste persone decideranno di sottoporsi alla campagna vaccinale o meno. È chiaro che con questi numeri chi resta è oberato perché abbiamo un periodo molto difficile sotto il profilo dell'ordine pubblico, abbiamo un periodo molto difficile sotto anche il discorso dell'immigrazione e anche per quanto riguarda il discorso proprio della pandemia, quindi dei controlli Covid, oltre che tutte quelle attività quotidiane e normali. Tamaro amplia il contesto a livello nazionale riprendendo un vecchio mantra del SAP, ovvero le difficoltà legate alla carenza di personale che si registravano già in periodo pre-pandemia. Solo nella Polizia di Stato noi abbiamo un ammanco di circa 10.000 unità sul territorio nazionale di personale dopo i tagli della legge Madia e quindi pensare di avere ulteriori ammanchi dovuti appunto alle mancate vaccinazioni. È chiaro che comincia a diventare una cosa veramente difficile.